E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video, con le nuove luci, anzi sono vecchie, con i nuovi microfoni, con il nuovo telefono che registra in 8k, salutiamo Samu che è l'unico che può vedere questo video Fateci sapere se è migliorata sia la qualità video che audio, cosa andiamo a fare oggi? Preferiresti Ehi, più piano Preferiresti 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 Questo o quell'altro? Questo Io quell'altro Essere bravo in tutto al 50% e essere bravi al 100% in una cosa 100% in una cosa Sì, anch'io Perché se sei bravo al 100% in una cosa puoi sfondare e lì riesci Fai il successo Esatto, fai il successo Saltare in una pozza di lava o saltare in una pozza d'acqua gelida? Acqua gelida Acqua gelida Però dopo rimaniamo secchi comunque, quindi No, la lava ti muori, la pozza gelida no Eh sì, sei troppo fredda Ma io no Tentativo di fare amicizia con un gorilla Tentativo di fare amicizia con un orso Bene Con un gorilla Orso Sì? Sì Un gorilla è tranquillo Ma cosa King Kong? Siete completamente anonimi Essere super famoso Essere super famoso Essere famoso ma un po' mi viene l'ansietta Quella è vera Perché non puoi fare niente Cioè, qualsiasi cosa Non è Harry Potter Harry Potter Team Harry Potter Se siete come noi Star Wars Come me Perché lei è un po' rimbambito Franci, cos'hai detto? Dopo gli radica alla tua mamma? Anzi, la tua mamma vedrà il video No, dai Ogni minuto sembra un'ora Ogni ora sembra un minuto Depende da cosa fai Eh, esatto Se è una cosa bella ci sta Se no, no Scrivi un foglio di 10 pagine Completa 50 problemi di matematica Scrivo un foglio di 10 pagine Una lettera per pagina Possiedi un iPhone O possiedi un Samsung? iPhone Samsung tra l'altro Quello che sta registrando Perché questo è un iPhone E fa schifo Non lo vogliamo più Scriviamo sotto nei commenti Team Samsung o Team iPhone? No, per fortuna Non usa più il mio Perché mi finiva tutta Nel mare ogni volta Infatti Quali stiamo usando? Il mio Samsung S23 Ultra Plus Wow Quindi commentate qui sotto nei commenti Team iPhone o Samsung? iPhone Samsung Perdere un arto Perdere l'accesso a internet per sempre Non perderei mai un arto Sì, ma una volta Penso che non esisteva Internet e vivere non lo stesso Sì, ma non puoi vivere Il giorno d'oggi È impossibile Non so Voi cosa dite? Perdere un arto O vivere senza internet? Lo facciamo perdere un arto Perché Però io comunque vivrei Cioè, non so Io penso che riuscirai a vivere Senza internet Proprio tu Ma cosa vuoi? Hanno la capacità di teletrasportarsi Hanno la capacità di essere invisibili Teletrasportarsi Perché Posso andare dove voglio Esatto Senza pagare tutti quei soldi Che chiedono Per andare dall'altra parte del mondo Usa i viaggi nel tempo Usa i viaggi nel tempo per cambiare la storia Usa i viaggi nel tempo per cambiare qualcosa di personale Sì, usa la seconda, assolutamente Cambiare qualcosa di personale Sempre a lavorare troppo Non ho mai niente da fare Sempre a lavorare troppo, è meglio Franci Non mi esprimo Comunque sempre a lavorare troppo Sì, perché quando non hai niente da fare Ti senti una nullità Scrivi un buon libro Ma senti chi parla No, io lavoro tutto il giorno Per voi ragazzi Edito il video Scrivi un buon libro Scrivi una bella canzone Bella canzone Anch'io Bimbi giganti Andatevela a vedere Se non l'avete vista Ragazzi fateci sapere Come avete risposto voi A queste domande Fatidiche Interessanti Dubbiose Amletiche Eh sì, poi E niente Mi raccomando Scrivete nei commenti Tutto quello che volete Che è importante La vostra opinione Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Condividete a tutti il video E lasciate un like Che così capiamo Se vi piace questo format O no No E ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 Ciao